Entro il 2019 gli studenti dell'Istituto Filippo De Cecco di Pescara, attualmente ospitati dal Di Marzio Michetti, torneranno nella sede dell'alberghiero di Via Italica. A breve saranno effettuati i lavori grazie ad un finanziamento regionale e si procederà così al trasferimento. Lo hanno annunciato oggi alla stampa il Presidente e il Dirigente del settore tecnico della provincia Antonio Zaffiri e Luigi Urbani, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Neoconsigliere regionale Guerino Testa, già Presidente dell'amministrazione provinciale. Il trasferimento dall'alberghiero De Cecco di Via Italica, lo ricordiamo, è stato necessario a causa delle infiltrazioni d'acqua al primo piano dell'edificio, dove dallo scorso ottobre, con il passare dei mesi, la situazione si sta ulteriormente aggravando e i lavori di rifacimento della copertura sono necessari ed urgenti. Attualmente 300 studenti delle 20 classi ospitati al Di Marzio Michetti sono costretti ad affrontare diversi disagi dovuti al fatto che seguono le lezioni in Via Rapietra, ma per partecipare ai laboratori didattici devono spostarsi in Via Italica e questo comporta anche un'ulteriore spesa per il trasporto degli alunni che viene pagata dalla provincia. Il Presidente Zaffiri ha annunciato che i finanziamenti statali pari a 2 milioni e 300 mila euro arriveranno entro il 2020 e la Regione, anticipando la somma di 800 mila euro, fa sì che il problema possa essere risolto, evitando che si debba sgomberare anche le aule che si trovano al piano terra dell'edificio di Via Italica. Il De Cecco di Pescara è stato ammesso un finanziamento per 2 milioni e 3, questa è un'anticipazione di quei 2 milioni e 3, quindi sotto il profilo strutturale, sotto il profilo antincendio, sotto altri profili anche igienico-sanitario dovrà essere attenzionato. Quindi adesso faremo un intervento per riportare i ragazzi, per eliminare quel disagio di trasferimento per i laboratori quotidianamente, dalla Di Marzio alla De Cecco e tamponeremo questo problema di infiltrazione che va a malorare ancora di più la struttura e poi ci sarà un intervento a seguire consecutivo proprio per eliminare altri problemati, come ho detto prima.